Nasce a Pescara la prima ecospiaggia, un grande progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale in collaborazione con la FATER Sindaco. Sì, e sono molto orgoglioso che Pescara esprima una spiaggia libera che è meravigliosa. Questa immagine è un'immagine dai Caraibi, perché Pescara può offrire questo e lo offre su una spiaggia libera comunale a disposizione di tutti i cittadini. Un progetto sviluppato insieme alla FATER, un progetto che ha anche un aspetto culturale e di insegnamento, perché questa è la prima spiaggia ecosostenibile, un'ecospiaggia inclusiva perché sarà gestita da un'associazione che cura la disabilità e soprattutto con questa spiaggia vorremmo insegnare come deve essere il rapporto tra il cittadino e la spiaggia e il mare. Quindi tutte cose positive che abbiamo sviluppato in questi mesi di lockdown e di pandemia per presentarci in un modo meraviglioso, perché questa spiaggia è al centro di Pescara, è l'immagine della nostra città dove c'era degrado assoluto, perché tutti ricordano che cos'era questa spiaggia negli ultimi anni. Oggi è rinata una stella e lo dico per i pescaresi che sanno perfettamente che qui c'era lo stabilimento, è nata una stella. Ecospiaggia a Pescara nella stagione della bandiera blu, tra l'altro? Sì, credo che questo sia un altro esempio forte di come si possono gestire le spiagge e di come può essere trattato il mare in maniera sostenibile, perché oramai noi dobbiamo andare verso la sostenibilità ambientale su tutte le questioni e noi a Pescara lo stiamo facendo e credo che quello che mettiamo in campo lo dimostri ampiamente. Quindi proseguiremo su questa strada, quest'anno abbiamo avuto la bandiera blu, adesso abbiamo anche l'Ecospiaggia, stiamo prendendo complimenti da tutti, nei prossimi giorni verrà anche l'Egambiente con la Goletta Verde e sono certo che confermerà tutte le cose positive che ci sono su Pescara in questo periodo, dal punto di vista ambientale siamo contenti del lavoro fatto perché poi lo vediamo concretamente.